eccoci qua mattina con noi e allora vi è capitato in questi giorni sicuramente di andare magari nei centri commerciali no per fare gli ultimi acquisti di natale e a un certo punto hanno messo le canzoni di natale no che personalmente dovrebbero mettere gioia però a me mettono anche molta tristezza perché questo può capitare durante le vacanze di natale arriva un po di malinconia che ci avvolge poi ci sono anche i propositi per l'anno nuovo ne facciamo tanti magari poi non riusciamo a mantenerli tutti insomma ne abbiamo da discutere lo facciamo con una bravissima psicoterapeuta sono molto felice di dare il buongiorno alla dottoressa francesca santamaria polombo buongiorno dottoressa buongiorno simone grazie per l'invito grazie possiamo darci del tu assolutamente sì va bene tutto bene grazie per essere qui grazie a te tutto bene sì appunto si parte e si tocca un tema molto importante che è presente appunto anche nelle terapie delle persone che accompagno sì che è il christmas blues così si chiama dall'inglese assolutamente che è diverso dalla depressione affettiva stagionale che invece è legata al cambio delle stagioni invece questa diciamo depressione è legata soltanto al periodo delle feste natalizie quindi inizia il primo di dicembre e si conclude dopo l'epifania quindi il 6 gennaio teoricamente ne siamo fuori in caso assolutamente è una cosa scientificamente provata assolutamente si è super contenti quando finiscono le feste ecco come mai quali sono i soggetti più sensibili a queste feste che magari poi vengono avvolti da questa malinconia e soprattutto perché secondo te ci assale questa malinconia in un momento che in realtà dovrebbe essere un momento di gioia i motivi possono essere diversi ci si trova magari in una fase evolutiva particolare quindi si trova a dover fare i conti i famosi bilanci e quindi bilanci che non hanno soddisfatto in un certo qual modo le nostre aspettative un'altra causa potrebbe essere il fatto che cambiano le routine le abitudini quindi si sta spesso con i parenti con gli amici quindi si esce tutte le sere e non a tutti piace questa tendenza anche questa eccessiva allegria queste canzoni queste luci possono diciamo in un certo qual modo stravolgere alcuni dici effettivamente magari soprattutto entra in gioco secondo me il fatto che a fine dell'anno si fa un bilancio delle cose che si sono ottenute le cose le insoddisfazioni e quindi magari si concentra tutto verso questo questo periodo natalizio si può fare qualcosa per combattere questa questa malinconia questa Christmas blues assolutamente ci sono alcune strategie da mettere assolutamente in atto porre dei confini quindi se ci rendiamo conto che non vogliamo partecipare a tutte le unioni familiari non siamo tenuti a dire sempre di sì si può dire anche qualche no non è molto scontata come tecnica ma comunque funziona quindi cercare di calibrare gli impegni relazionali con impegni che vanno incontro alle nostre necessità quindi magari preferiamo semplicemente per una sera a guardare Netflix e stare a casa tranquilli quindi rispettiamo questa nostra necessità quindi stabilendo i famosi confini in maniera assertiva declinare l'invito e rinviare alla prossima volta ecco sempre in maniera garbata ovviamente assolutamente ci sono anche degli esercizi proprio che si possono fare secondo te per come dire per sentirci meglio durante durante questi giorni sicuramente scrivere è molto terapeutico cercare di capire quali sono le cause magari abbiamo perso una persona cara abbiamo troncato da poco una relazione quindi non ce la sentiamo andare a tutte le unioni familiari ci sta il legittimo quindi cercare di con carta e penna di fare un po il punto della situazione capire in che momento ci stiamo trovando o un po come la finisce rinasceremo dalle nostre ceneri quello è sicuro capire appunto quali sono queste ceneri che cosa farne di questo dolore che abbiamo accumulato nel corso dell'anno quindi la scrittura è sicuramente terapeutica una sorta di diario caro diario oggi mi sento così magari esprime i nostri sentimenti su carta e credo poi sia interessante a distanza di anni ritrovare no quelle pagine e come dire rivivere quella quell'esperienza e magari sentirsi soddisfatti per averla come dire superata poi il dolore lo sappiamo ci accompagna una parte come dire unica e inequivocabile sicuramente della della vita però ecco ci sono varie varie tecniche e mezzi per per affrontarlo ecco e poi è giusto dirlo che a natale viene tutto acutizzato assolutamente anche per l'idea del natale il natale che cosa richiama richiama l'idea di festa di stare con gli altri di festeggiare continuamente di sorridere sempre quindi anche un po questa aspettativa di essere sempre contenti per alcuni può essere fonte di grande disagio è così è vero e ci avviciniamo al 31 dicembre no francesca cosa succede e siamo soliti fare dei propositi soprattutto magari se veniamo da delle insoddisfazioni il nostro augurio è sempre che per l'anno prossimo riusciamo a fare quelle cose che non siamo riusciti a fare magari raggiungere dei traguardi più importanti o anche delle cose magari più banali come magari andare in palestra smettere di smettere di fumare per esempio ecco quali sono i come dire la tecnica migliore per affrontare questo anno che sta per arrivare anche qui sembrerà molto scontato ma non darsi troppi obiettivi magari individuare le cinque aree principali della nostra vita e su ogni area porsi un solo obiettivo quindi l'area per esempio appunto lavoro l'area mente l'area corpo l'area relazioni l'area proprio crescita personale in generale spirituale quindi per queste cinque aree darti un solo obiettivo quindi questi diciamo sono i cinque pilastri poi più importanti no della della nostra vita leggevo un articolo che mi hai che mi è gentilmente passato e appunto in cima alla lista c'è la mente vogliamo vogliamo approfondire il discorso assolutamente la mente è importante nutrire anche quell'aspetto come si nutre la mente leggendo libri che appunto vanno in direzione di una nostra crescita libri che sono comunque dei nostri interessi si pratica anche la mindfulness la mindfulness è ritornata molto in voga perché ci permette proprio di ritagliarci quei minuti in cui nutriamo sia la mente ma anche il corpo perché ci connettiamo profondamente con noi stessi e con il momento presente che si intende con mindfulness questa consapevolezza di se stessi della mente assolutamente attenzione consapevole del qui ed ora quindi semplicemente ci si concentra sul corpo sui suoni su le sensazioni anche che il nostro corpo ci dà la sensazione del respiro quindi si respira profondamente la tecnica più semplice che insegno in terapia è quella dei 10 respiri quindi si ispira contando fino a 10 e si ispira contando fino a 10 pochi minuti al giorno i famosi respiri consapevoli assolutamente quindi insomma si può fare tranquillamente a casa ritagliarsi due minuti della propria giornata per mettere come dire le idee insieme e riflettere un attimo su quello che sarà la giornata e su quello che magari possiamo migliorare cosa che non è andato magari poi abbiamo lo spirito come possiamo alimentare lo spirito è collegato con la mente spirito e mente sono strettamente collegati la mindfulness è collegata ai due aspetti molti aspetti si intrecciano in un certo modo tra di loro quindi lo spirito che cos'è appunto capire quali sono i nostri valori in cosa crediamo fermamente prenderci un momento per noi stesse per il nostro corpo per la nostra comunque anche qui mente quarto punto leggo le relazioni che è una cosa fondamentale perché tutti noi inevitabilmente abbiamo delle relazioni che siano relazioni amorose che siano relazioni familiari amici non è facile mantenere perché penso sia uno anche dei dei propositi in genere più in voga secondo me no coltivare di più le relazioni uscire di più essere più socievoli perché è importante coltivare le relazioni perché poi sono le persone intorno a noi no che ci rendono la vita più secondo me appagante assolutamente anche qui voglio un po dire la mia anche in quello in base a quello che emerge in terapia e in base anche un po le aspettative sociali non serve avere tante amicizie tante conoscenze ma è importante avere quelle amicizie quelle relazioni che fanno la differenza nella nostra vita anche all'inizio è importante partire da se stessi da quali sono i nostri valori da cosa crediamo fermamente e da lì magari capire appunto che persone possono stare vicino a noi e poi ci sono vari gradi di conoscenza quinto punto le finanze questo è un tema dolente per tutti quanti noi perché sembra sempre così complicato controllare tenere tutto sotto sotto controllo appunto che possiamo fare con queste finanze francesca sicuramente ci si domanda anche che tipo di lavoro stiamo facendo se soddisfa le nostre aspettative se ci piace se ci sono anche delle prospettive di carriera è importante fare un bilancio anche su quello per capire come direzionare la nostra bussola in tal senso e capire quanto spendiamo anche lì fare un'analisi dei bilanci quanto spendiamo comunque durante l'anno ci sono tante app anche collegata alla banca che ai me ci possono far capire quanto ci sono quante spese ci sono state quante entrate quante uscite e da lì capire su cosa risparmiare o magari invece abbiamo risparmiato troppo e concederci quello sfizio in più sarà importante quindi è importante proprio prendere carta e penna fare un bilancio concreto e capire come direzionarci anche in tal senso certo a me veniva una curiosità tu hai diversi pazienti una tua attività c'è molta insoddisfazione venendo soprattutto da questi tre anni che sono stati totalmente no terribili c'è qual è il denominatore comune di chi viene da te francesca un'insoddisfazione personale assolutamente diciamo che la pandemia ha fatto un po da cartina tornasole di come va la nostra vita quindi ha portato ad ampie riflessioni sulla vita a capire insomma molte persone in terapia hanno cambiato lavoro hanno cambiato vita hanno cambiato relazioni sì quel momento così drammatico per tutti ha portato una per alcuni anche una svolta un cambiamento che magari non si aveva il coraggio di fare io stessa durante la pandemia ho fatto il mio grande cambiamento comunque anche in ambito lavorativo quindi ha richiamato un po tutti questa lavoro su te stessa perché poi immagino una psicoterapeuta no faccia un lavoro proprio anche su se stessa ovviamente apprendendo anche dal proprio lavoro si migliora sempre di più anche perché non ce lo dimentichiamo fondamentalmente la psicoterapeuta un essere umano con le proprie debolezze e insicurezze quindi un percorso molto interessante anche molto complicato immagino quindi serve la terapia francesca perché devo dire negli ultimi tempi amici conoscenti devo dire che sempre più persone iniziano una terapia che secondo me fa benissimo a prescindere cioè avere di fronte una persona con la quale puoi parlare di tutto senza senza filtri soprattutto che non ti giudica sei d'accordo assolutamente la terapia è utile per tutti a mio parere io stessa ho fatto un percorso personale per diventare terapeuta e continuo talvolta appunto a vedere la mia terapeuta è importante per fare il punto della situazione capire in che momento ci troviamo ed è importante perché c'è una persona oggettiva che è in grado di ascoltarci e supportarci in questo percorso di crescita tu hai molte donne sensibili che vengono da te sì ti faccio questa domanda e chiedo alla regia di far vedere questa bellissima copertina perché questo è un libro che tu hai scritto eccolo qua il potere delle donne sensibili le risorse dell'alta sensibilità per affrontare le sfide della vita questo libro scritto da te complimenti per la copertina innanzitutto molto molto bella sì chi sono queste donne sensibili ce ne sono tante oggigiorno francesca abbastanza la ricerca ha evidenziato che sono il 15 20 per cento non solo donne ma proprio persone in generale che hanno questa caratteristica questo tratto che ci porta ad empatizzare molto con l'altro a sentire molto le emozioni dell'altro e anche a livello sensoriale si è molto più sensibili per esempio mi può fare un esempio proprio concreto assolutamente la persona altamente sensibile quando va al centro commerciale in ora di punta di sabato pomeriggio una volta tornata a casa bisogna di stare in un luogo buio per decomprimere perché perché rispetto ad altri noi abbiamo sentito di più le abbiamo sentito di più suoni gli odori ci siamo concentrati sulle persone che erano vicino a noi su quello che dobbiamo fare quindi c'è stato un processamento delle informazioni molto più avanzato e infatti le persone altamente sensibili hanno bisogno di più ore di riposo almeno 7 8 proprio per questo motivo ma una cosa congenita questa si genetica genetica sì quindi può essere tramandata voglio dire assolutamente assolutamente ho capito una cosa molto molto interessante come si scopre di essere tra l'altro esistono anche uomini sensibili assolutamente sì anzi il problema che ha evidenziato la ricerca è che pochi vanno in terapia perché soprattutto in occidente in italia un uomo che piange un uomo che si commuove un uomo che è sensibile non viene visto bene per quella cultura precedente parti patriarcale che ancora esiste ma anche questo retaggio che ci portiamo dietro no che un uomo che piange sinonimo di poca virilità ma non è assolutamente così anzi un uomo che mostra le proprie emozioni un uomo coraggioso un uomo che sa mettersi a nudo e che è sicuro anche di se stesso e dei propri punti di forza e come ci si accorge francesca di essere particolarmente sensibili ci sono delle avvisaglie fin da fin da bambini sì sono bambini molto introspettivi bambini che già due tre anni di fanno domande sulla vita e sulla morte quindi molto curiosi sì io ero così se facevo domande molto particolari e si discostano anche dalla media degli altri bambini che hanno altri interessi hanno altre passioni i bambini altamente sensibili sono introspettivi sensibili appunto sentono subito quello che sta avvenendo in quel determinato ambiente anche se non sanno magari comunicarlo a livello verbale quando sono molto piccoli e si stancano facilmente e hanno anche una la difficoltà che subentra è quella di interagire con i pari perché comunque o sono i confidenti quindi quelle a cui gli si racconta tutto il supporto ma hanno una difficoltà comunque di base a comunicare come si sentono loro i loro bisogni le loro necessità quindi a fronte di questo comunque dei genitori hanno delle difficoltà almeno col bambino altamente sensibile di entrare in contatto e di capire come aiutarli e supportarlo perché tendenzialmente tendono ad avere ad avere tutto dentro a non comunicarlo e immagino poi questo per dei genitori possa come dire rappresentare anche forse un ostacolo una difficoltà una sfida una sfida ecco perché la sensibilità al giorno d'oggi magari non come dire viene un po calpestata a volte no soprattutto quando siamo bambini e questo non viene magari compreso quindi cosa possono fare dei genitori quindi partendo proprio da quando si è piccoli e poi crescendo in questo libro riduco che tu affronti un percorso assolutamente si può intraprendere per come dire abbracciare questa condizione perché è sicuramente non invalidante ovviamente però ci porta come detto tu stessa a vivere il tutto in maniera molto più amplificata e magari soffrendo neanche assolutamente perché il bambino altamente sensibile ma la donna la persona altamente sensibile si sente un po diversa proprio perché sente tutto in maniera così intensa quindi il compito del genitore è quello di ascoltare supportare e far capire che appunto quel modo di pensare è un dono ovviamente ma non tutti possono coglierlo capirlo e quindi è importante farlo capire al bambino che magari lui c'è rimasto male che l'amichetto è stato scortese in quella giornata ma appunto il genitore ha il compito di far capire che magari l'amichetto non c'era arrivato non l'aveva compreso quindi si cerca di decodificare le cosiddette situazioni sociali. Tu come come dottoressa con i tuoi pazienti no che poi dicono di essere sensibili appunto come che tipo di percorso affronti con loro? Sicuramente faccio una valutazione per vedere sia se c'è il tratto che ripeto non è legato a una problematica psicopatologica è solo un tratto quindi un tratto. Un tratto del carattere esattamente come chi è biondo e scuro magari che più come dire è una caratteristica socievole cioè chi è più sensibile. Assolutamente indaghiamo se c'è appunto l'eventuale presenza di un disturbo di personalità è una problematica anche di natura psicopatologica perché in quel caso appunto se subentra uno di questi due aspetti si fa un lavoro appunto anche su quegli aspetti e da lì poi c'è tutto un accompagnamento in terapia un po' con quel linguaggio cercare di capire i nostri bisogni le nostre necessità spesso si lavora anche sull'autostima e l'autoefficacia che negli anni è venuta a mancare proprio perché si è sentita questa differenza e successivamente poi appunto si fa un percorso anche improntato sulla crescita personale. Tu come ti accorgi che di fronte hai una paziente o una paziente altamente sensibile semplicemente parlandoci ci sono delle delle abisaglie chiare tramite il dialogo tramite appunto anche questionari ci sono dei questionari comunque elaborati. Ah lo voglio fare questo questionario poi me lo passi e te lo mando magari scopri di essere altamente sensibile. Io mi reputo una persona comunque sensibile ecco quindi lo scoprirò magari. Assolutamente all'interno del libro troverai anche delle indicazioni in tal senso quindi ci sono dei vari questionari ci sono delle attività per capire appunto se si possiede o meno questo tratto e quindi da lì poi si fa tutto un lavoro introspettivo un viaggio come dico sempre inizia. È vero che questa tua passione per la psiche diciamo per gli esseri umani è iniziata quando sfogliavi le riviste no? Sai quelle riviste che le ragazze no soprattutto leggono perché eri alla ricerca di alcune risposte. Allora mi chiedevo perché questa cosa mi ha interessato molto una ragazza giovane no? Sei ancora giovanissima ma all'epoca. Che risposte volevi cercare? Cosa volevi sapere dalla vita? Perché riflettevo così tanto? Perché mi ponevo tante domande? Perché a volte risultavo anche un po' pesante? Io adoravo la filosofia e quindi tutte le volte quando andavo dal dentista banalmente sfogliavo queste riviste ma non trovavo alcuna risposta. C'era qualche poi ai tempi insomma 16-17 anni parliamo del 2001 no anzi un pochino di più 2004-2005 c'erano veramente poche righe quindi non ero per niente soddisfatta. Le risposte le ho trovate nella filosofia. Nella filosofia? Sì. Ecco. Qual è la domanda l'illuminazione più grande che hai avuto secondo te se si può dire? Banalmente a me è piaciuto molto Platone quindi quel mondo delle idee, quelli per Uranio, quelle cose che io sognavo comunque internamente mi è piaciuto anche tanto Aristotele. Comunque sono stati vari autori che mi hanno illuminato lungo la strada. E poi hai capito che la psicologia era il tuo mondo. Sì assolutamente. E fai questo mestiere si vede con molta passione e soprattutto con molta dolcezza. Grazie. Secondo me i tuoi pazienti sono molto molto fortunati perché poi si trova una persona dolce. Ecco questo direi mi sento di dire. Francesca come donna propositi per l'anno nuovo? Parlando di propositi. Sicuramente dedicarmi più all'ambito relazionale perché in ambito lavorativo c'è anche un obiettivo importante per il 2023 che ancora non posso svelare quindi c'è un altro progetto. Lavorativo? Sì. Allora in bocca al lupo per tutto magari quando va in porto ce ne parli. Assolutamente. Ho raggiunto tanti obiettivi, altri progetti infatti all'interno del mio libro parlo di una routine che in un certo qual modo durante la pandemia mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita. Una routine? Sì. La routine del mattino. Queste piccole azioni di crescita personale c'è anche la scrittura che mi hanno permesso di fare il focus sugli obiettivi. Il 2023 sarà l'anno quindi di questo progetto di continuare appunto con gli obiettivi lavorativi ma sarà l'anno anche della famiglia quindi di dedicarmi appieno nella crescita della mia piccolina Maria Daniela. Tu è una bambina. Che mamma sei? Mamma Francesca? Sono molto dolce, un po' apprensiva e molto legata ovviamente alla mia piccina che ogni giorno cresce sempre di più. È la tua prima figlia? Eh sì. Immagino come prima figlia ci sia grande apprensione. Poi immagino magari queste preoccupazioni da mamma le ritrovi anche nelle tue pazienti e quindi lì è bello ritrovarsi e anche offrire la tua esperienza di mamma. Assolutamente. Ricordiamo il tuo libro. Voglio farlo vedere eccolo qui proprio cartaceo perché mi piace tantissimo questa copertina. Facciamo vedere anche eccolo qua. Questa è una copia per me? Assolutamente. Grazie mille. Grazie mille. Lo leggerò con molto molto interesse perché forse non se ne parla abbastanza di persone sensibili Francesca. Sembra sempre così un po' insordina però è un tratto molto importante della nostra personalità. Sì anche perché in un certo qual modo secondo me la pandemia una cosa ci ha regalato. Come dice René Brown si parla sempre più di vulnerabilità. Prima invece era un tabù. Era solo performance, risultato. Le guardo una persona. Invece adesso si inizia a parlare di fragilità, di momenti no perché è importante parlare anche di questo. È importante sensibilizzare su questo tema perché le persone appunto che ci ascoltano e ci vedono si sentono incoraggiate nel sapere che i momenti no esistono e ci permettono anche di portare avanti al meglio i nostri obiettivi. Sì e poi sembra come se le persone altamente sensibili nella vita non possano essere vincenti ma non è così. Assolutamente no. Ho tanti esempi in terapia ma anche esempi nella storia. che hanno fatto appunto la differenza. Uno al volo? Che cosa? Un esempio al volo della... Walt Disney. Ah Walt Disney. Sì Walt Disney era un sensibile, un sognatore. Si dice anche che fosse Asperger. Ah ecco. Perché appunto il tratto dell'alta sensibilità può essere collegato anche a un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Però adesso andiamo molto ad approfondire. Esatto. No diciamo che su questo discorso potremmo aprire una conferenza. Sì. Ecco. Però se nel nostro piccolo, no? Siamo riusciti a fare luce su questo tema. Quindi abbiamo parlato di Christmas Blues, questa nostalgia ai propositi per l'anno nuovo. Insomma chiunque poi volesse parlare con te sa come rintracciarti. Comunque Francesca, Santa Maria, Palombo. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a te. Ti auguro un bellissimo anno. Anche a te e anche a tutti voi. E appena si concretizza questo progetto, torni e ce ne parli. Assolutamente sì. Grazie. Grazie mille. E allora rimanete lì perché tra poco si balla, aiuto. Mi ha detto insomma il nostro amico Simone Ripa che sarà un ballo molto complicato. Però devo dire che personalmente rispetto al primo ballo sono migliorato. Poi facciamo anche un refresh. A tra pochissimo. A tra pochissimo.